Faccio un brevissimo profilo, 33 incontri, ne ha vinti 32, ne ha pareggiato uno, è di Civitavecchia ed è campione mondiale, pesi leggeri, WBC, Emiliano Marsili. Complimenti a Emiliano Marsili, soprattutto per la pulizia dello stile, uno stile bellissimo, preciso, è davvero un maestro soprattutto del pugilato. Grazie a Emiliano Marsili, adesso il vento...